Avere fede vuol dire rischiare e affidarsi completamente a Gesù. Così Papa Francesco, durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno, il Pontefice ha rimarcato che nella vita bisogna osare per trovare la vera speranza e in questo le donne dimostrano di essere brave e che camminando dietro Gesù poco alla volta anche la purezza dell'intenzione diviene meno imperfetta, ma mai ha proseguito restare fermi al balcone ad aspettare. I fermi, quelli che erano all'orlo del cammino, guardavano, erano seduti, è proprio seduti, erano seduti là alcuni scrivi, questi non seguivano, guardavano, guardavano dal balcone. Non andavano camminando la propria vita, balconavano la vita, proprio lì. Non rischiavano mai, soltanto giudicavano. Erano i puri, non si mischiavano. E anche i giudizi erano forti nel suo cuore, ma che gente ignorante, che gente superstitiosa. E quante volte noi, quando vediamo la pietà della gente, semplice, ci viene in testa quel clericalismo che fa tanto male alla Chiesa.